Benvenuti in questo nuovo video delle anticipazioni del segreto. Ascoltate con attenzione fino alla fine, e non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Sin dalla loro prima apparizione al segreto, si è subito capito che Prudenzio e Saul nascondessero qualcosa. Con il tempo e lo svilupparsi della trama, questa sensazione si è fatta via via sempre più forte, fino a divenire una certezza. Prudenzio, in preda alla gelosia nei confronti del fratello, farà una telefonata alle forze dell'ordine e poco dopo Saul verrà arrestato. Ma cosa c'è dietro questa storia? Facciamo un passo indietro. Qualche anno prima, i due giovani erano dei semplici studenti universitari. Poi qualcosa andò storto e Saul venne accusato di aver eliminato un professore, e divenne un ricercato in fuga. Prudenzio rivelerà questa terribile storia a Francisca confessando anche che i loro nomi reali sono Evelle e Raffaele. Le accuse rivolte a Saul, in realtà sono vere soltanto in parte, in quanto tutto l'accaduto fu frutto soltanto di una sfortunata coincidenza. Il ragazzo infatti non aveva intenzione di far male all'uomo. Purtroppo una falsa testimonianza permisa alle autorità di incriminare Saul. Per evitare di fuggire per tutta la vita, ai ragazzi venne l'idea di cambiare identità. La matrona, non appena venute conoscenza di questa storia, avrà una brutta reazione e negherà il suo aiuto per aiutare Saul. Cosa accadrà a questo punto? Grazie per averci ascoltato anche oggi. Se il segreto ti appassiona, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e premi sul simbolo della campanella per non perdere le nostre migliori anticipazioni.